Nuova impennata dei contagi ma scendono gli ricoveri e questa l'estrema sintesi del bollettino covid odierno. Sono 126 nuovi casi di coronavirus compresi tra 2 e 90 anni, rilevati dopo aver processato 5.174 test, 2.812 molecolari, 2.362 antigenici con un tasso di incidenza che più che raddoppia rispetto a ieri, salendo al 2,43%, un dato tra i più alti di questo periodo. I casi totali da inizio pandemia sono 76.741, gli aumenti dei casi sono di 39 in provincia di Pescara, 38 in quella di Teramo, 22 in quella dell'Aquila, 16 in quella di Chieti, 6 di fuori regione e per 4 sono in corso accertamenti sulla provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.515, scendono invece i pazienti ricoverati in area medica, sono 39, meno 3 rispetto a ieri, mentre è invariato il dato delle terapie intensive con un solo ricovero, 1.494 i pazienti in isolamento domiciliare, più 66 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 62 i dimessi guariti, mentre sono aumentati di 63 unità gli attualmente positivi in Abruzzo, che ora sono 1.534. Intanto la ASL di Teramo ha comunicato che nel mese di luglio ha eseguito 96.417 somministrazioni di vaccino, 18.591 prime dosi e 77.826 seconde dosi. Nella giornata di ieri, con le 2.564 vaccinazioni eseguite, l'azienda Teramana ha raggiunto oltre il 70% dei 301.814 cittadini della provincia, pari a 211.541 persone vaccinate con la prima dose. La seconda è stata somministrata a 176.224 cittadini, pari al 58,39% della popolazione Istat. Il dato più significativo, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia, è relativo alla fascia di popolazione 17-19 anni. Ha ricevuto la prima dose il 94,25%. Questo dato è molto importante, unito a quello della categoria 12-16 anni e in aggiunta alla percentuale di personale della scuola, docente e non docente, che arriva al 96% di immunizzati. Fra coloro che sono iscritti nella piattaforma regionale, conclude il manager dell'ASL di Teramana, ci permette di guardare alla riapertura della scuola con maggiore ottimismo.